EMTOOLS è un metodo coreografico di mappatura urbana che utilizza il corpo come strumento cartografico per mappare ciò che accade in uno spazio urbano nelle sue estensioni geometriche e temporali. Ci sono quattro fasi che faremo. Il metodo rende possibile la trasformazione con il corpo delle esperienze vissute nella città attraverso diversi linguaggi quali l'arte visiva, la cartografia e la performance. Qui la cartografia si intende come una pratica artistica che ci aiuta a pensare la mappa non come una riproduzione bidimensionale e oggettiva ma come un qualcosa di creativo in cui il corpo diventa lo strumento su cui sperimentare nuove forme di rappresentazione dello spazio urbano. Il metodo si presenta come una guida in cui sono descritte in otto lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese e arabo le istruzioni per realizzare una sessione di mappatura. Per il progetto di Bologna sono stati coinvolti dei performer di diversa provenienza geografica e al contempo alcuni performer della comunità locale al fine di creare un processo di scambio intraculturale sulla base di quattro principi applicativi del metodo. Il primo è osserva, il secondo è cattura ovvero la mappatura dello spazio attraverso delle azioni corporali, il terzo è ripeti cioè un reenactment selettivo delle azioni in studio, il quarto è componi, una sorta di mappa corporale che diventa uno score coreografico. La guida ha permesso di scandire le fasi del lavoro a partire dall'acquisizione di forme, situazioni e accadimenti urbani. Nel primo step il performer si trova nello spazio urbano e individua un luogo su cui avverrà la sessione di mappatura. Cammina e si lascia catturare dagli eventi, dalle situazioni, dagli oggetti, dalle persone che si trovano intorno a lui. Quando un qualcosa ha catturato la sua attenzione il performer deve escludere tutto e trovare in questo spazio un modo per focalizzarsi solo sulla cosa che ha osservato. In questo momento si deve chiedere quali siano le proprietà dell'oggetto, quali siano le possibilità per interagire e incorporare quelle proprietà, di che colore è, che forma ha e a cosa serve. Nel secondo step il performer crea con il corpo un'azione, una postura in risposta a queste proprietà elencate. Si posiziona vicino all'oggetto, all'evento e alla situazione individuata. Con questa azione è riuscito a catturare le proprietà di questo oggetto. Ora il performer cerca di memorizzare attraverso il corpo, attraverso la postura del corpo, questa azione. In questa fase è proprio importante documentare, fotografare questa cattura perché sarà utile in un secondo momento ricordare queste forme. Nel terzo step il performer si trova in uno spazio chiuso, in uno studio. Cerca di ricordare le posture che ha eseguito nello spazio urbano davanti a un muro o uno spazio neutro, cercando di essere sempre più fedele alle azioni originali che ha trovato nello spazio urbano. In questa fase si cerca di registrare le posture utilizzando le foto e creando un archivio di posture e azioni. Queste azioni verranno nominate e il performer assegnerà a queste posture un numero, una lettera che verranno poi utilizzate nelle fasi successive. Una volta incorporate il performer può ripetere più volte queste azioni quanto vuole. Nel quarto step il performer ora può organizzare e riconfigurare tutte le posture in una partitura coreografica. Nello spazio chiuso si crea una composizione di movimento a partire dalle catture delle posture fatte in esterno. Il performer può riorganizzare dando dei parametri di tempo, di spazio, per sviluppare una mappa corporale. Anche la tenuta in questo caso è molto importante perché permette di dare il ritmo alla composizione stessa. In questa fase si esplorano le varie combinazioni, le permutazioni tra le posture, la tenuta e la prosemica tra i corpi. Quindi anche in questa fase il pubblico sarà molto importante perché sarà appunto il display in cui il corpo verrà mostrato. Un triangolo con due linee unite e una casella. Un triangolo con due linee unite e una casella. Una casella o varie città. Un'abertura che va in giro e sanoscio. Orizzontali parallele di diverse lunghezze. L'unico punto nero con solitudine. Di alcito. E' un cuo. Un cuo. Un cuo di ruo. Un cuo di ruo. Un lancio. Un cuo. Un lancio. Un lancio. Un movimento nel paesaggio urbano. oggetti in verticale appesi line sabbat damion tealongo rettangoli neri per inserire